Accessibility Days 2024. Sapienza, Università di Roma, 16 e 17 maggio. Un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni. Un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono. Accessibilità all'arte e alla cultura. L'approccio del design della comunicazione. Dina Ricò, professoressa associata, Politecnico di Milano, Dipartimento di Design. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Ben ritrovati per la sessione pomeridiana di questa giornata dedicata a esplorare varie tematiche relative tutte al mondo dell'accessibilità digitale. Io mi chiamo Aide Longo e oggi ho l'onore di presentarvi la sessione dedicata a un tema che soprattutto dopo il lockdown, ma non solo, è diventato sempre più importante e cioè come possiamo declinare tutti i requisiti dell'accessibilità digitale applicandoli a quelle che sono le realtà culturali invece. Quindi l'accesso ai beni culturali, l'accesso alle opere d'arte, l'accesso ai musei. Oggi a parlarne con noi c'è la professoressa Dina Ricò che è professoressa associata al Politecnico di Milano e che è una grandissima esperta su questi temi. Ha anche tra l'altro curato il libro Accessibilità Museale che è uscito nel 2023 e ci parlerà un po' dei progetti che sta seguendo sull'ambito e di come effettivamente noi possiamo cercare di indirizzare un'accessibilità digitale anche e soprattutto volta a un accesso alla cultura. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille per la presentazione. Buon pomeriggio presenti e distanti. Questa è la mia quinta partecipazione alle Accessibility Days consecutiva, quindi sto diventando un'affezionata alla partecipazione anche perché credo molto in questo progetto, tanto che come Dipartimento di Design e Scuola del Design anche quest'anno patrociniamo l'iniziativa. L'approccio, l'affrontare lo studio dell'accessibilità lo vediamo nel programma complessivo di questi giorni è complesso, richiede competenze che hanno diverse sfaccettature disciplinari. Il mio approccio è quello del designer della comunicazione, quindi di chi si occupa di artefatti che sono da ascoltare, da vedere, da toccare, da azionare, concretamente sono libri, sono audiolibri, sono siti web anche, sono interfacce e così via. Quindi tutti gli aspetti sensoriali all'interno del progetto di questi artefatti sono importanti. Dividerò il mio intervento su tre punti, ovvero cercherò per prima cosa di motivare perché è importante occuparsi di accessibilità all'arte e alla cultura fornendo alcuni dati, porterò alcune esperienze espositive che nella mia interpretazione sono da considerare come virtuose e infine porterò quello che stiamo facendo con gli studenti alla scuola del design del Politecnico di Milano. Perché è importante occuparsi di accessibilità? Una delle motivazioni ce la dà anche la recente ridefinizione di museo fatta da ICOM che è l'organizzazione internazionale fondata nel 1946 che si occupa istituzionalmente di musei che nel 24 agosto 2022 durante una delle loro conferenze hanno presentato pubblicamente una riformulazione della definizione di museo. La cosa caratterizzante di questa riformulazione è proprio perché all'interno della stessa abbiamo la parola accessibilità. Ciò che differenzia rispetto alla definizione precedente è appunto che viene detto i musei sono aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Anche dal punto di vista nazionale sembra l'accessibilità culturale e museale essere un obiettivo strategico. In una conferenza del 2020 dalla direzione generale musei si dice l'accessibilità si pone come obiettivo strategico del sistema museale nazionale. Quindi dal punto di vista istituzionale diciamo che l'intenzione di lavorare in questa direzione c'è. I dati ci dicono altro perché confrontando i dati Istat, questi sono dati dell'anno 2018 pubblicati nel 2019, ci dicono che nelle numerose strutture espositive italiane esistono ancora barriere fisiche e sensoriali, tanto che solo la metà, circa il 53%, è attrezzata con rampe, bagni e elevatori per le persone con ridotta capacità motoria e solo poco più di 1 su 10, 12% offre percorsi che sono tattili, materici, informativi, sensoriali per ipovedenti e non vedenti. Il report successivo dati Istat 2021 pubblicati nel 2022, qui ho estrapolato alcuni elementi salienti, non sono tutti perfettamente confrontabili perché ci sono degli accorpamenti un po' diversi, ma comunque ci dicono che c'è stato un miglioramento relativamente all'accessibilità motoria, saliamo di circa 8 punti con il 61% dei musei appunto che hanno strutture architettoniche all'edificio con accessibilità motoria, ma rimaniamo ancora molto bassi per servizi e materiali per l'accessibilità sensoriale, in particolare percorsi tattili o podotattili sono 9,5%, video in lease ad esempio 4,4%, insomma quindi abbiamo delle percentuali sull'accessibilità sensoriale che sono molto basse. Quindi i dati ci dicono, ci danno queste informazioni dal punto di vista degli obiettivi il Ministero sembra essere propositivo perché dice che l'accessibilità costituisce ancora oggi una criticità e quindi si rende conto di questa necessità, ma allo stesso tempo con gli investimenti previsti dal PNRR si propone di raggiungere dei livelli molto migliorativi rispetto ai precedenti, quindi di raggiungere un 80% di accessibilità dal punto di vista motorio e un 50%, che quindi è un percentuale artissimo rispetto a quelle che abbiamo visto prima, per il superamento delle barriere senso-percettive e questi obiettivi sono vicini almeno delle intenzioni, quindi dovrebbero essere ottenuti entro giugno 2026. Quindi abbiamo visto, ci sono delle criticità manifestate nei numeri, se pensiamo a una cosa che ho dimenticato prima, forse è un dato che era qui, complessivamente in Italia abbiamo 4.292 musei pubblici e privati, di questi insomma solo il 10% risulta essere con qualche forma di accessibilità, qualche forma. Per rilevare l'accessibilità sensoriale, anche qui il Ministero ci ha fornito degli strumenti utili, interessanti, PEBA 2018 ha un allegato con la checklist che ci consente di barrare quali sono servizi, attività, materiali presenti e in relazione a questo quindi poter identificare quali sono quegli aspetti di accessibilità sensoriale o motorio che sono presenti. Noi estrapolate qualcuno, la checklist è molto più lunga, qualcuno che riguarda il design della comunicazione, quindi noi in quanto designer della comunicazione dovremmo ritenerci anche responsabili di questo esserci o non esserci di artefatti comunicativi accessibili, ad esempio guide braille, guide cartacee in caratteri ingranditi, contesto facilitato, dispositivi per audio tour, dispositivi per audio tour se sono gratuito o meno, se ci sono delle guide multimediali, se ci sono delle schede di sala, se ci sono mappe tattili con caratteri braille, con caratteri in rilievo, con simboli in rilievo, con caratteri ingranditi, con caratteri con contrasto di luminanza e così via. Quindi per rilevare il fatto che un museo sia o meno accessibile gli strumenti già esistono. Ho messo questo come slide diciamo così riassuntiva che rappresenta uno schema fatto da Laura Carlucci che è una docente dell'Università di Granada che si occupa di traduzione audiovisiva in particolare applicato al museale dove appunto sono sintetizzati quelli che sono gli strumenti per rendere accessibile non solo un museo ma uno spazio della cultura e quindi audio guide, audiodescrizioni, traduzioni lis, sottotitolaggio, scrittura braille, l'uso di materiali tattili, testi facili da leggere ovvero che rispettano caratteristiche di leggibilità e comprensibilità, è quello che in inglese si chiama leggibility e readability, questa contrapposizione, che tradotti matericamente significa prevedere immagini che sono sia statiche che cinetiche, testo scritto, testo audiovisivo, elementi tattili, elementi olfattivi, gustativi e così via. Quindi questa prima parte è per presentare che da un lato ci sono delle criticità, dall'altro ci sono degli obiettivi che intendono superare queste criticità, dal punto di vista quantitativo ci sono queste criticità ma dal punto di vista qualitativo almeno a me sembra di aver rilevato nell'insieme delle esperienze che sono estremamente interessanti e che possono essere considerate anche come modelli di riferimento dal quale quindi prendere esempio e portarle nel proprio contesto. Ne ho qui elencate qualcuna sulla quale mi soffermo brevemente, a partire dalla primissima che mi piace citare che è quella, una mostra parigina, le mani guardano, del 1977 che è l'anno di inaugurazione del Pompidou ed è stata la prima a me sembra esposizione che ha avuto, anche quando ancora non si parlava di accessibilità, che ha avuto attenzione sull'esplorazione tattile e quindi l'accesso ai musei non solo per guardare ma anche per esplorare in modi alternativi gli oggetti e le opere esposte. Queste sono alcune immagini prese da quell'esposizione, sulla sinistra vediamo un bambino cieco che si esercita nel toccare alcune superfici e a destra un bambino che invece è vedente ma viene bendato per essere messo nella stessa condizione di addestramento percettivo. Prendo alcune citazioni, la prima direttamente dal catalogo di quel museo in cui dice in Francia il proibito toccare è ancora sacrosanto e la via libera al toccare nei supermercati non è una regola nei musei. Siamo nel 1977, questo è il 1980 perché poi la mostra è stata itinerante e quindi è venuta anche in Italia, Milano e a Roma. Altra citazione successiva, siamo nel 2006, Antonella Fusco del Ministero per i beni e attività culturali fa presente che il divieto di toccare, come sappiamo, le opere riguardo dei principi che sono base della conservazione del patrimonio dei musei. Ultima citazione di Bruno Munari che nei suoi laboratori tattili iniziati più o meno in quegli anni, questo è del 1985, diceva non toccare, quante volte i bambini si sentono ripetere questa imposizione, bambini ma un po' tutti, nessuno direbbe mai non guardare, non ascoltare ma pare che il tutto, il tatto sia diverso, molti pensano che se ne possa fare a meno. Quindi si tratta innanzitutto anche di creare una cultura nella quale appunto la fruizione dell'opera d'arte non sia da considerare come esclusivamente visiva. E gli esempi che vi mostro velocemente, questa è un'immagine dell'allestimento di quella mostra, sono dei cubotti dove sopra ci sono appunto delle superfici o dei volumi anche da toccare, non abbiamo immagini della, almeno io non sono riuscita a reperirle parte dell'edizione originale del 77, questa è una delle mostre itineranti che si è tenuta a Lisbona nel 1980. In questo caso era un tavolo pieno di guanti con i quali appunto inserire le mani per apprezzare i vari tipi di qualità sensoriale. Prima di avere un'analoga esperienza espositiva passano un po' di anni. Degna di essere citata penso che sia Dialogo nel buio, che molti di noi insomma conoscono, che è inaugurata a Milano nel 2002 a Palazzo Reale che aveva creato per un anno delle lunghe file di prenotazioni ed è in questo momento permanente presso l'Istituto dei Cechi di Milano. In sostanza in questo caso sono le persone cieche che guidano i non vedenti dicendo guardate che voi non riuscite a cogliere tutta una serie di cose che invece noi con gli altri sensi riusciamo a cogliere. Mostra successiva, prendete questa selezione come una selezione molto personale ma che a me comunque mi ha particolarmente coinvolto. Questi sensi unici che si è tenuti a Roma nel 2016 una piccola mostra ma interessantissima sui libri, quindi sulla sensorialità dei libri perché offriva delle modalità di fruizione alternative. Ad esempio, questa era davvero un'idea geniale ovvero sentire una texture non tattilmente ma acusticamente con un'amplificazione che è dovuta da uno stetoscopio. Tanto che io poi mi sono comprata uno stetoscopio per ascoltare le varie superfici e quindi per dirvi come i modi di esplorare opere e oggetti possono essere di altra natura oltre che visibili. Questa è un'altra mostra che mi sembra molto interessante dedicata ad Albers del 2018 dove alcune delle opere erano state tradotte tattilmente dall'Istituto dei Ciechi di Milano. la particolarità rispetto a altri progetti è che Albers è un maestro soprattutto del colore e il colore è una specificità che è peculiarmente visivo, mentre per la forma io posso tradurre con non dico con facilità ma comunque è molto più semplice tradurre la forma tattilmente, tradurre il colore comunque mi devo inventare dei codici di traduzione. All'ingresso di questa mostra c'era un corridoio sensoriale buio con la presenza di alcuni materiali non di Albers ma insomma del tipo di quelli utilizzati da Albers nelle sue opere. L'ultimo esempio che vi presento è la collezione design al Museo Mero su un progetto di Fabio Fornasari anche le mostre del design sono mostre in cui sono solo da guardare praticamente quindi in questo caso è un'eccezione perché i 32 elementi in mostra possono essere toccati e oltretutto questo che vedete è un bancone che accompagna il visitatore nel percorso e con un piedestallo che segnala la presenza di un oggetto da esplorare, segnala la presenza anche per chi appunto utilizza un bastone. Il bancone è in grande contrasto con il pavimento quindi è bianco con un pavimento che entra all'oscuro per appunto facilitare il contrasto. Gli oggetti che sono in mostra sono esplorabili in diversi modi quindi tattilmente e io posso anche toccare le sagome di questi oggetti se voi notate nel pareti laterali con una didascalia che è in braille e così via. Arrivo quindi a noi, insomma cosa stiamo facendo alla Scuola del Design al Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano da un paio d'anni, quindi dall'anno accademico 2022-23 è attivo un percorso che si chiama Ambassador Inclusivity è un percorso iniziativa e nazionale, partecipano diverse università al nostro interno diciamo che possono partecipare a questo percorso tutti gli studenti iscritti al Politecnico indipendentemente dall'indirizzo quindi sia i designer che gli architetti che gli ingegneri possono iscriversi a questo indirizzo che prevede alcuni insegnamenti mirati specifici e altri insegnamenti che invece hanno orientato il proprio programma in direzione dell'accessibilità. Il mio corso è uno di questi che ha orientato il proprio programma in direzione dell'accessibilità. Oltre ovviamente all'attività didattica c'è l'attività di ricerca sono comprese anche le tesi di laurea cito questa che è ormai del 2001 perché è stata la prima tesi che ho seguito sul tema dell'accessibilità museale perché ha dato seguito sia a un momento collettivo che è un convegno sia anche agli atti del seminario che sono ancora disponibili disponibili su un pdf purtroppo il pdf è stato scansionato e quindi non è un pdf accessibile perché comunque è cosa di più di vent'anni fa. Sono raccolte già lì una serie di esperienze internazionali di accessibilità museale e quindi mi sembra che possa essere una lettura interessante per chi è dedicato al tema. E presento l'ultima invece tese che ho seguito sul tema che è intitolata Un castello senza barriere è un progetto di accessibilità museale per i musei civici di Pavia le immagini che avete rappresentate sono uno la fotografia di un portale al centro questo portale è ricostruito in stampa 3D e sulla sinistra la simulazione di quel portale con le proporzioni della tavola che è stata progettata è stata progettata una tavola che ha degli elementi sia materici sia digitali è stata posta attenzione nel progetto della tavola alla scelta del carattere tipografico la fonte è un frutiger perché ha un buono spessore è lineare è stata fatta attenzione alla spaziatura dei testi alla distanza dell'interlinea prevede una stampa un contrasto cromatico alto come vedete un bianco su un blu un contrasto cromatico che è in un rapporto 10-48-1 tanto per darvi una idea quello che ci chiedono le VCAG è un rapporto di 4,5 ad 1 quindi comunque è un alto contrasto il bianco è stato stampato con una vernice UV che è una vernice che consente di avere uno spessore rilevabile quindi ha più passate in modo da avere il massimo spessore possibile quindi sia i testi sia i pittogrammi sono stati stampati in UV mentre il portale è una stampa 3D stampa 3D ci sono anche i campioni dei materiali per apprezzarne la temperatura perché voi sapete che le stampe 3D sono comunque stampe di materiali sintetici dove la temperatura non è significativa in più la possibilità di avvicinare il proprio smartphone e con un tag NFC di avere un collegamento a un'audiodescrizione del portale ho dimenticato prima di dire le motivazioni che hanno portato a rendere accessibile questo perché essendo un portale di 5 metri di altezza è ovvio che io non lo posso esplorare tattilmente quindi la possibilità era solo tramite un modello una ricostruzione di un modello in scala tra le attività recenti un seminario sull'accessibilità museale quest'anno giunto alla seconda edizione lo cito perché fra i musei che hanno partecipato abbiamo invitato i musei soprattutto milanesi con la maggiore esperienza di progetti di accessibilità quindi hanno partecipato la Pinacoteca di Brera il Museo Pol di Pezzoli collezione di La Panza questa è di Varese il Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco oltre alla collezione design del Museo Mero di Ancona che prima abbiamo citato un'attività specifica che stiamo facendo all'interno del nostro laboratorio didattico è questa mostra che ormai si sta ripetendo da alcuni anni che abbiamo chiamato questo progetto Controsenso che ha avuto una prima esposizione nel 2022 in occasione di Accessibility Days all'Istituto dei Ciechi di Milano e poi in parte nelle nostre aule e in occasione di Book City che è una manifestazione dedicata milanese dedicata alla presentazione dei libri ogni studente aveva scelto o un museo o un'opera o una collezione di opere sulle quali doveva progettare un progetto audio-video accessibile ovvero provvisto sia di sottotitoli sia di audiodescrizioni e anche la traduzione materica dell'opera quindi un'interpretazione ovviamente materica dell'opera questo è un esempio durante l'ultimo allestimento novembre 2023 di Book City queste sono le mani di alcuni partecipanti dell'Istituto dei Ciechi di Milano che appunto nel momento di esplorazione di questa stampa 3D in un materiale insolito che è la cera perché è un'opera di Medardo Rosso originariamente in cera un altro esempio interessante perché utilizza un livello di traduzione con più codici quindi oltre ad avere la scrittura Braille abbiamo anche una traduzione pittogrammatica e in basso una scrittura che è comunque schematizzata che cerca di restituire delle sensazioni anche con l'uso di appositi materiali quindi il fatto di utilizzare segni pungenti quando voglio suggerire questo tipo di informazioni oppure arrotondati quando voglio dare sensazioni di morbidezza altro esempio interessante è un progetto video e traduzione tattile su Fausto Melotti interessante perché pone due diverse modalità di traduzione ovvero nella prima è una traduzione tattile quindi io ho dei tasselli che possono essere mossi all'interno di una tavola nel secondo tipo di traduzione della stessa opera invece ho delle vernici termofonduttrici che con una programmazione con Arduino restituiscono una sonorità altre che traducono considerando degli aspetti molto materici in questo caso è un'opera di cinetica di Grazia Varisco cinetica nel senso che comunque si muove è stata tradotta semplicemente utilizzando delle biglie di due diversi colori che ovviamente nel momento in cui sono mescolate producono una sonorità ora non so se si sente perché è abbastanza piano si sente poco ma comunque allora per sinestesia pensate di immergere le mani all'interno di un recipiente con delle biglie su una superficie che è riflettente queste appunto producono una sonorità oltre a quindi lavorare sulla traduzione dell'opera d'arte anche il fatto di lavorare su artefatti comunicativi dell'opera d'arte che siano accessibili quindi anche pieghevoli o poster o comunque artefatti che consentono di fornire anche le istruzioni per l'uso progettati in maniera accessibile infine il sito nel quale potete trovare questi progetti abbiamo cercato di realizzarlo ovviamente rispettando dei requisiti di accessibilità ha una doppia modalità di ricerca delle opere sia per lista che su mappa e allo stesso tempo le opere ad ogni opera è anche associata un'audiodescrizione per cui volendo io posso ascoltare la descrizione del progetto mi stanno segnalando che il mio tempo si sta esaurendo comunque sono quasi alla conclusione ci tenevo a dire appunto che questi progetti sono anche a seguito della collaborazione scientifica che abbiamo con l'istituto dei ciechi di Milano ormai quasi ventennale questi sono i nostri studenti che dovrebbero essere in ascolto e quindi li saluto e che la settimana scorsa sono andati in visita all'istituto dei ciechi per appunto vedere quelle che sono i laboratori di stampa tattile questo è un esempio estremamente interessante perché confronta anche il diverso modo di lavorare sulla traduzione dell'iconicità sia dal punto di vista tattile che ciò che facciamo con gli studenti anche dal punto di vista visivo queste sono opere che già negli autori ovviamente hanno diversi livelli di iconicità da Modigliani a Picasso a Cle ringrazio il mio collaboratore di laboratorio Gianluca Balzerano che me le ha fornite collaborazione anche con Rai Accessibilità che ha pubblicato i video accessibili degli studenti delle ultimi due anni infine per concludere tre concetti che mi sembrano essere importanti e da memorizzare una cosa che tengo a sottolineare è che il toccare per vedere ha una dimostrazione scientifica ovvero ci sono studi che dimostrano come sia in persone vedenti bendate sia in persone cieche nel momento in cui io comunque esploro dei materiali delle qualità tattile si accendono le aree visive e questo ha una dimostrazione scientifica e quindi ci dice che se lavoriamo in questa direzione bene magari riusciamo anche ad accendere qualche lampadina due in accordo con quanto ci dice la direttiva europea è importante lavorare su più registri sensoriali e in più modalità e in più formati leggo direttamente la citazione della direttiva europea che ci dice che le informazioni istruzioni per l'uso di un prodotto e così via la comunicazione più in generale devono essere realizzati rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente attraverso più di un canale sensoriale e questa è la direttiva europea che ce lo chiede quindi già se cerchiamo di lavorare in questa direzione cercando di fornire quindi artefatti comunicativi che offrono più possibilità di fruizione stiamo lavorando nella direzione giusta ovviamente poi dobbiamo cercare anche che fra questi diversi formati sia ricercata una coerenza sinestesica fra i contenuti che noi offriamo in diverse modalità se volete approfondire vi indico le ultime pubblicazioni accessibilità museale è stato pubblicato a novembre dello scorso anno è disponibile in libero accesso con Franco Angeli con un pdf che abbiamo cercato di rendere per quanto possibile accessibile quindi anche comprende i tag alle immagini alle descrizioni delle immagini e questo secondo sull'accessibilità comunicativa che quindi non solo l'accessibilità museale ma l'accessibilità comunicativa nei diversi settori dai libri web all'intelligenza artificiale ai webinar eccetera uscirà tra pochissimo tempo insomma i primissimi giorni di giugno dovrebbe essere disponibile in entrambi i libri hanno collaborato l'organizzazione di Accessibility Days e quindi niente ringrazio il mio team di lavoro Savlab che ogni anno sta crescendo e questi sono i miei recapiti prima di salutarvi se abbiamo ancora il tempo faccio partire non abbiamo il tempo se siamo al limite vi rimando al sito abbiamo due minuti però devo lasciare un attimo di spazio alle domande dunque intanto rispondere alla domanda che mi è stata fatta sul codice per l'attestato che è il 2816 poi appunto se ci sono domande dal pubblico fate ok adesso arriva il grazie mi sentite ok ho visto sulla slide che aveva riguardo la trasposizione del museo dell'arco che c'era appunto la possibilità di leggerlo in maniera più leggibile di toccarlo eccetera nella modalità di lettura ho visto che veniva usato il maiuscolo e mi chiedevo come mai perché invece da questo punto di vista ho ricevuto spesso maiuscoletto il discorso sulla leggibilità il carattere tipografico apre un mondo ovviamente ero molto curiosa perché ho sempre ricevuto in quel caso era un maiuscoletto quindi non un maiuscolo abbiamo seguito delle linee guida che ci davano queste indicazioni se osservate in generale sulle mappe tattili anche che guardate nelle stazioni eccetera eccetera nella traduzione tattile è più facile da leggere il maiuscolo rispetto a un alto basso se io lo apprezzo tattilmente se io lo voglio apprezzare visivamente su questo c'è un ampio dibattito che aprirebbe una discussione molto lunga però se io ho una sola parola è ovvio che il maiuscolo mi può anche andare bene se io ho un'intera pagina questo rallenta la lettura anche perché la nostra lettura è complessiva le leggi della Gestalt ci dicono leggiamo la forma e la forma di una lettera maiuscola è sempre un rettangolo se invece io prendo il contorno di una qualsiasi lettera alto basso ho un contorno che ha una forma quindi in questo senso nei testi lunghi è preferibile l'alto basso visivo nella lettura visiva mentre nei testi corti possono essere utilizzati entrambi riguardo la lettura tattile da quanto abbiamo rilevato è una lettera maiuscola è più facilmente apprezzabile tattilmente rispetto a una lettera minuscola ottimo grazie prego grazie mille ci sono altre domande? se no se volevi farci se volete vi mostro un video di due minuti che racconta l'esperienza dello scorso anno con gli studenti contro senso percorsi multimediali accessibili per il museo giugno 2023 questo bianco ora è vivo è materia ed è cambiamento è l'origine silenziosa di ogni suono lo spazio per ogni metamorfosi sono più che mai consapevole della mia percezione del mondo è il mio dono e la mia maledizione sorrido tra me e me pensando che questa scena sembra uscita da un quadro il terreno è coperto da cespugli vellutati attorno le fronde si muovono come piume al vento ecco che immersa nel verde e nel caldo estivo appare un piccolo porticato illuminato da sole la mia fine è arrivata per mano di un gesto finale unico ma fatale ora attendo il coraggio di vedere oltre di superare la mia superficie e addentrarsi nell'infinito entrate dunque in questo spazio curvo finito e illimitato e ora cercate di distogliere lo sguardo sarete trascinati nella danza del provvisorio e del relatino organizza la materia in pieno e voti per marcare ritmicamente lo spazio un compositore va al pianoforte e mette le mani sul piano ma non sa che cosa scriverà una tormentata in pieno di neri bolle il corpo nell'indefinito fluire della mente un'ombra opprimente pervade densa nocivamente viva insaziabile seduto di fronte a una tavola imbandita resto colpito dalla freschezza estiva i colori e sapori un ultimo sorso e la frenesia mi avvolge mi avvio verso il futuro sarà un'avventura grazie grazie alla professoressa Ricò e io vi lascio al prossimo webinar con Proxima Anghess ottimizza qualità esperienza sicurezza e accessibilità delle tue soluzioni digitali la nostra piattaforma offre soluzioni in tre aree Quality testa i tuoi prodotti e trova i bug prima che lo facciano gli utenti Experience crea esperienze di test memorabili ascoltando i veri utenti finali Security garantisci la sicurezza del prodotto grazie ad ethical hacker certificati Be smart from the start www.anghess.io Accessibility Days 2024 Sapienza Università di Roma 16 e 17 maggio un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono di tante superf cooldown di maestro una